Ma è una delle grandi acquisizioni di questa vitalità che il Consiglio regionale della Toscana sta cercando di offrire a quella che io amo chiamare Via Larga perché da Lorenzo e il Magnifico in poi la strada che conduce da Piazza San Marco fino al cuore, al centro di Firenze, al Duomo è oggi Via Cavour, dal nome che gli fu dato ai tempi dell'Unità d'Italia, ma storicamente per secoli è stata la Via Larga ovvero la via che in qualche modo era lo struscio di Firenze, il passaggio dei fiorentini e non a caso in Via Larga, diventata dopo il trasformarsi del nostro Gran Ducato in uno Stato unitario fu intitolata l'artefice dell'Unità d'Italia, ovvero Cavour. Naturalmente in Via Larga, poi Via Cavour, oltre che la sede del Consiglio regionale oltre che il Teatro della Compagnia che abbiamo da poco riaperto, oltre il Palazzo Bastogi oltre esercizi commerciali di grande profilo e richiamo, vi è quel Caffè Michelangelo che ha siglato la nascita del Movimento dei Macchiaioli e oggi da Massimo Innocenti e dagli altri titolari dell'esercizio viene riproposto come luogo non solo da esercizio commerciale ma come centro di cultura e quindi i nostri dirimpettai, i nostri per il Consiglio regionale che sta sul lato sinistro andando verso Firenze, sul lato destro abbiamo questo splendido spazio che si riapre alla città un po' come quando con i macchiaioli metteva al tavolino operatori culturali che poi hanno reso famosa Firenze a livello nazionale, internazionale insomma il Caffè dei Macchiaioli da domani presenta un ricco programma e da domani questa associazione che è l'associazione culturale al lato dell'esercizio commerciale ci presenterà come poesia, pittura, cultura si presentano in un'attualità che è davvero qualcosa di straordinario perché fa rivivere quella che è l'epoca che portò Firenze ad essere magari solo per sei anni capitale politica dell'Italia ma per molti anni fino ad oggi qualche modo il punto di riferimento, la capitale culturale del nostro paese